E ora, come sempre, andiamo nelle zone che sono state colpite dal terremoto. In diretta ad Amatrice c'è Alessia Gizzi. Dunque, Alessia, il maltempo non ha prodotto, per fortuna, situazioni critiche, però ora si teme il freddo. Sì, sotto la pioggia. Comunque qua il freddo la sera si fa già sentire, quindi la situazione diventerà presto critica, soprattutto per le tendopoli. Ma andiamo con ordine. Qui oggi sono andati avanti ad Amatrice tutto il giorno i lavori per raccogliere dalle macerie i resti, per cercare di mandare avanti anche quelle che sono le indagini sui crolli. E intanto oggi è stata ancora una giornata di lutto ad Ascoli Piceno. Si sono tenuti i funerali di Marisol, la più giovane delle vittime del terremoto. La bimba aveva solo 18 mesi ed era in vacanza con i genitori ad Arquata del Tronto quando è arrivato il funerale. Tanto oggi è stata ancora una giornata di lutto ad Ascoli Piceno. Si sono tenuti i funerali di Marisol, la più giovane delle vittime del terremoto. La bimba aveva solo 18 mesi ed era in vacanza con i genitori ad Arquata del Tronto quando è arrivato il funerale. Tanto oggi è stata ancora una giornata di lutto ad Ascoli Piceno. Si sono tenuti i funerali di Marisol, la più giovane delle vittime del terremoto. La bimba aveva solo 18 mesi ed era in vacanza con i genitori ad Arquata del Tronto quando è arrivato il funerale. La sua bara bianca è stata portata a spalla dai vigili del fuoco e tantissime persone sono andate a darle l'ultimo saluto. Intanto per quanto riguarda i sopravvissuti, la priorità, l'abbiamo detto, è ora trovare soluzioni a breve per chiudere le tendopoli in attesa delle casette di legno che verranno consegnate entro sei mesi. E sul dove andare però che la popolazione si divide, come sentirete, nel servizio che abbiamo realizzato durante questa giornata.